ciao a tutti ragazze ragazze bentornati sul mio canale come prima cosa vi ricordo subito se ancora non l'avete fatto di iscrivervi al mio canale cliccando al tastino che trovate proprio sotto al mio video e attivare la campanella così da non perdere le prossime uscite e che vi aspetto anche su instagram michela trattino basso di trattino basso mua ma come al solito sotto in info box e trovate tutti i link di riferimento per quanto riguarda i miei social video recensione per quanto riguarda i prodotti per i capelli della faberlic me ne sono innamorata e ho provato diverse linee ma oggi mi concentrerò ovviamente su quella che preferisco allora in pratica la linea di cui parlo è della expert della faberlic che è una sintesi d'alta tecnologia e ha degli ingredienti funzionali per trasformare i nostri capelli quindi che vanno non solo a curarli ma li cambiano li aiutano nel tempo a diventare sempre più belli allora quelli che amo follemente sono quelli della linea ever strong questa qui la verde e sono davvero fantastici si cancella sempre la scritta dietro quindi mi metto nel catalogue così vi dico bene e quindi come vi dicevo a questa tecnologia globale che va che è stata progettata appunto per riparare anche i capelli molto danneggiati e i prodotti sono tutti a base di olio di amla e riempiono ogni ciocca dei nostri capelli di super forza che nessun altro prodotto fa io sto amando follemente lo shampoo e questo è un 250 ml di prodotto e lo shampoo rigenerazione profonda per quanto riguarda i nostri capelli hanno una freschezza imbattibile una schiuma davvero molto molto delicata lavano benissimo anche il cuoio capelluto i capelli rimangono belli leggeri e sani sembra proprio che ieri da vita veramente vi assicuro sono eccezionali e quindi è un prodotto che amo alla follia ho provato anche quelli della salon care anche quelli sono molto buoni anche quelli della botanica ho provato buoni buonissimi anche quelli ma loro sono imbattibili eccezionali hanno fatto ci sono diverse linee ci sono per esempio quella azzurra che è lisci come seta c'è la tecnologia smart system che sarebbe quella verde un po a scura per tutti i capelli e poi c'è la pulizia profonda del cuoio capelluto che è quella nera e se non sbaglio c'è anche quella sì non so finite c'è quella rosa rosa che invece per capelli è la di noi la linea con aminoacidi e poi c'è quella verdina verdina verde smeraldo diciamo che ha un effetto volumizzante e poi c'è l'ultima la novità che è quella studiata per l'estate che va a proteggere dai raggi con i nostri capelli eccezionali buonissimi e sicuramente è uno dei prodotti che dovete provare costano anche relativamente poco perché il prezzo è buonissimo dei prodotti io sto amando tutto quindi c'è lo shampoo il balsamo che io non utilizzavo più i balsami perché non mi facciamo niente questo invece li lascia morbidissimi e va comunque è un balsamo considero rigenerazione profonda dei capelli quindi è davvero ottimo per chi ha i capelli come me e sapete che io ho fatto tanti cambi di colore negli ultimi anni li ho distrutti e grazie a loro veramente stanno rinascendo sono di nuovo sane e stanno crescendo anche più in fretta quindi buonissimo e poi ovviamente c'è anche la maschera che è un 200 ml è fantastica buonissima veramente la sto amando alla follia faccio vedere l'ho utilizzata ieri mamma mia che profumo fantastico è troppo troppo buona quindi eccezionale e poi c'è anche il l'elisir per i capelli e come vedete l'ho utilizzato tantissimo lo metto ogni volta che li lavo l'ho messo anche quando stavo in piscina dopo i bagni in piscina non unge capelli li avvolge e su tutta la lunghezza appunto dando un effetto di morbidezza straordinaria quindi super promossi tutti i prodotti della expert per quanto riguarda i capelli utilizzo anche le fiale le fiali che sono concentrati di bellezza per i nostri capelli quella rossa che blocca diciamo viene utilizzata per quando facciamo le tinte infatti la devo riacquistare la metto nella tinta e anche la tinta utilizzo quella della expert che è fantastica a vedi c'era anche quello la mi sono dimenticata due linee che è quella rossa che è protezione di colore e quella la gialla che ho utilizzato tra l'altro che è quella la per i capelli maturi ve le faccio vedere tutte eccoli qua colore capelli maturi e adesso la fiala di questa linea qua mi è rimasta da provare lisci questa qua viola questi qua questo qua verde smart system e questo per la pulizia profonda del cuoio capelluto questa con gli aminoacidi e quest'altra verde qua che vi dicevo è quella per il volume e poi c'è quella solare veramente per ogni genere di problematica e quindi vi dicevo ci sono questi concentrati in fiala e ci ne sono cinque cioè quelli lisci come seta protezione del colore che io utilizzo quando faccio la tinta sfida del tempo che sarebbe questa e quattro cioè cura nutriente e ristrutturazione globale che sarebbe quella della linea degli shampoo che ho verde costano sempre 1 euro e 59 sono una fiala e questi possono essere applicati sugli capelli bagnati e tamponati e lasciati in posa dai 5 10 minuti poi sciacquati possiamo aggiungere qualche goccia alla nostra maschera per capelli e alla tinta possiamo aggiungerli oppure possiamo fare anche una terapia intensiva notturna quindi metterlo su tutta la cute su tutta la lunghezza andare a dormire a seconda di quello che vogliamo lisci protezione del colore la sfida del tempo nutrimento oppure ristrutturazione globale e poi il mattino dopo lavarli quindi fantastiche anche queste ottime comode anche da portare quando andiamo in viaggio perché ha una fioletta sola in scatolina comodissima poi un altro prodotto che sto utilizzando per i miei capelli e questo lo applico a volte due volte a settimana o a volte una volta sola a settimana e della botanica è questo l'olio di bardana è una restaurazione e cura risolve efficacemente il problema della caduta dei capelli quindi rafforza e nutre e attiva le radici dei capelli ha un effetto riscaldante sul cuoio capelluto aiuta a ridurre la perdita di capelli non appesantisce i capelli ed è facilmente lavabile ed è vero quindi che la composizione rafforza i folicoli peliferi ripristina la lucentezza naturale dei capelli su tutta la lunghezza e rende i capelli elastici al suo interno la paprika che stimola la circolazione sanguigna del cuoio capelluto rafforzando le radici dei capelli e prevenendo appunto la caduta quindi due volte a settimana o una volta a settimana applico questo su tutta la cute o comunque dove serve massaggiando e poi lo lascio in posa e mi sembra 20 minuti 20 o 30 minuti e mi diamo un po' applicazione lasciare in posa 20-30 minuti e possiamo mettere anche una cuffietta e e quindi poi lo risciacquo è eccezionale mi sta aiutando tantissimo per la ricrescita dei capelli nella salon care sto utilizzando anche questo che è un elisir per le punte davvero molto bello e delicato aiuta a chiudere le punte adesso l'ho ordinato anche della expert lo sto aspettando perché l'ha provato mia cognata ha detto che è eccezionale infatti l'ha riordinato anche lei ho preso anche quello questo sembra quasi proprio una crema per i nostri capelli e quindi li nutre li nutre le punte, li rende lucidi e non è pesante quindi anche questo è un ottimo prodotto da utilizzare per la cura dei capelli e poi per ultimo sto facendo un trattamento della linea expert pharma che sarebbe la linea da farmacia della Faberlic sto facendo un trattamento d'urto contro la caduta perché comunque a parte il periodo stressante che abbiamo passato tutti per il virus che comunque ha influito a livello di stress soprattutto per i nostri capelli ma ogni tanto va fatto quindi sicuramente poi lo rifarò anche a novembre e quindi sono queste qua e sono delle fiale che durano circa un mese io vedete me ne sono rimaste tre va applicato una volta quindi a settimana e quindi è un concentrato attivatore di foltezza dei capelli al suo interno sono sei pezzi da 5 ml quindi influisce sulle radici dei capelli rafforzandoli dall'interno ha una cura intensiva tre o quattro fiale a settimana e poi la cura di supporto che va fatta due o tre volte a settimana per tre o quattro mesi e si consiglia di utilizzarlo almeno in due cicli durante l'anno quindi io sicuramente lo rifarò a ottobre che è un altro periodo dove comunque i nostri capelli vengono messi sotto stress costano tipo in questa campagna 6,99 euro e anche questi sono molto leggeri non lungono i capelli e quindi mi stanno piacendo davvero tantissimo e è un altro prodotto che amo per i capelli e che volevo consigliare volevo farvi vedere le tinte della Expert perché ci sono davvero tantissimi colori hanno una bella copertura l'unico problema delle tinte ecco è che io l'ho fatta l'altro giorno per la mia lunghezza è abbastata ma per chi li allunghi sicuramente deve ritoccare la ricrescita vanno bene altrimenti ne deve prendere due vabbè costano poco perché 2,69 euro quindi si può fare e questi hanno in pratica la tecnologia Color Look che serve per fissare appunto il colore quindi ha il colore penetra in profondità è extra resistente e dà anche una lucentezza e morbidezza ai capelli perché dentro ha una cura di oli all'interno e sarebbero questi i colori io ho utilizzato il 4.5 amore che sarebbe il marrone chiaro cioccolato ma però sto ordinando anche il marrone il 4.0 perché questo comunque se è al sole mi ha lasciato un po' di riflessi rossicci e quindi vorrei togliere e spengere quei riflessi rossicci e quindi sto prendendo quello un po' più scuro comunque davvero buonissimi lascio i capelli morbidi morbidi io vabbè già li ho lavati da quando ho fatto il colore ma veramente ci andate a vedere i miei video vecchi i capelli sono migliorati notevolmente grazie appunto a questa linea che sto amando alla follia i prodotti sono ottimi prezzi abbordabilissimi per qualsiasi portafoglio le confezioni sono anche abbastanza grandi quindi durano tantissimo buonissimo anche il balsamo e quindi volevo condividere con voi la mia esperienza con questi prodotti perché mi stanno cambiando davvero notevolmente i capelli che sono rinati grazie ad expert della Faberlic come al solito io spero che il video vi sia piaciuto vi sia stato di compagnia mi raccomando se è stato così mettete un bel like iscrivetevi se ancora non l'avete fatto fatemi sapere cosa ne pensate di questi prodotti se li avete mai provati se volete provarli in futuro quindi se volete entrare in Faberlic o come clienti privilegiati o con il mio team per avere tanti vantaggi scrivetemi sotto che vi spiego come fare io vi saluto e vi mando un bacio al prossimo video ciao 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 ciao